E questa sera io sono molto contento di essere qua, di ospitare il Commodore Chief Department di Rodo e tutte le isole della Grecia, delle autorità presenti qua, il sindaco di Rodi e tutti i portautori di Happy New Year and welcome to MSI Magnifica. Come nave siamo contenti di essere qua, io come comandante e come prima nave nel porto di Rodi nell'anno 2012 e poi anche per rappresentare la MSC Crociere, il nostro armatore Gianluigi Aponte e l'amministratore delegato di Francesco Bago. Siamo in linea, veniamo qua ogni settimana e proprio questa settimana siamo arrivati in serata, come parlavo con il Chief Department Comodore, dovuto a una questione di mal tempo. Rodos è il nostro porto favorito, è il nostro porto più conosciuto della Grecia, lavoriamo da molti anni con la nostra agenzia, con l'agenzia della Grecia e facciamo una grande pubblicità per Rodos e anche per la Grecia. Quest'anno saremo presenti con una nuova nave, la MSC Divina, una delle più grandi navi forse del mondo, una nave che può ospitare oltre 4.000 passeggeri, fino ad aprile noi saremo presenti con Rodos, saremo presenti e poi cambieremo questa nave qua, sarà impegnata per i fiordi, ma saranno qua le altre navi della MSC, come MSC la fantasia splendida e divina che sicuramente verrà. Quindi io voglio ringraziare a tutti voi che ci ospitate sempre, noi ringraziamo pertanto e quindi ci auguriamo di poter lavorare sempre meglio con Rodos e quindi un anno migliore, un anno migliore nel 2011. Tanti auguri e tante grazie per questa serata e per il mio amico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Now, if you would like to have a ship visit, we have the choice we can offer you a ship visit, we have our hostess ready to escort you in all the ships.